In occasione della giornata internazionale delle donne, lo studio CS ha voluto ricordare ed onorare sia le loro conquiste sociali, politiche ed economiche, sia le discriminazioni e le violenze cui sono state sottoposte. È così che un salone di bellezza vuole uscire dallo stereotipo cui troppo spesso tale attività viene relegata. Senza togliere nulla al gossip e che comunque può risultare rilassante e divertente, Sandra e Irene, le titolari dello studio CS, hanno proposto alle donne un servizio gratuito di taglio, colore oppure messa in piega, nonché di make-up, mentre incontravano Luisa Barbieri, autrice del libro, edito da Pendragon, La sindrome di Mary Poppins, quale esordio di una lunga serie di iniziative già in cantiere. C'era nasce da un'esigenza personale e poi proprio perché viene fatto delle librerie, viene fatto ovunque perché non qui da noi, cosa manca a noi? Le persone non sono sempre quelle, un libro si può presentare ovunque. Finalmente si tenta di sfatare il pregiudizio che relega il momento della gratificante rimessa a punto del proprio look nell'angolino oscuro della superficialità. L'evento è stato molto apprezzato e partecipato, segno che i tempi stanno cambiando, che il bisogno di confronto e di cultura sta emergendo, esattamente come il superamento della coccola al gossip punti a capo. Sandra e Irene da oggi lanciano l'idea di associarvi la spinta alla lettura, che come si è visto in questa occasione, viene stimolata dalla presenza dell'autore, che oltre ad autografare libri, presenta il suo lavoro chiacchierando amabilmente con i clienti in un clima tutt'altro che accademico.